Ci troviamo nuovamente qua, come ormai una consuetudine, a preparare la nuova stagione in Cesenatico, ospiti di Pino Buda. Pino Buda è il nostro patron della CiderMec, secondo sponsor della formazione. Abbiamo avuto una stagione buona, con 19 vittorie, 32 podi, quindi una continuità nell'arco della stagione e con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno. Pino Buda, anche per il 2017, lei è lo sponsor principale insieme a Landroni. Quali sono gli obiettivi stagionali, che cosa si aspetta e cosa le piacerebbe vedere? Dunque, gli obiettivi stagionali sono indicati dal team manager e quindi io sono qui più che altro per sostenere i ragazzi in un momento molto difficile, per cui non posso abbandonarli proprio in questo momento. Credo che sia quasi doveroso da parte del RCS ammetterci a competere per il Giro d'Italia, soprattutto perché abbiamo un nuovo talento, il colombiano Bernal, che a tutti gli effetti sembra che abbia dei grossi numeri e abbiamo bisogno assolutamente che l'Italia, almeno, guardi alle squadre italiane.